Mi trovo qui sopra la montagna, verso il Castagneto, e qui ci sono i resti di un'antica costruzione. Abbrifiniamoci piano piano, vediamo l'area circostante, eccola qui. Soprattutto questa sicuramente era una costruzione, come bene si evidenzia, vedi i residui, questi che sono, i coppi, questi sono i coppi del Cosa. Eccoli qua, vedi, eccoli qua, non so quanti anni c'ha, c'è proprio 200 anni, anche di più. Comunque sia, penso che sicuramente qua dentro c'era il classico pozzo, sì, il classico pozzo perché qua non si vede più di tanto, non si vede, sì. E ci sono molte pietre che sono cadute dentro, qui, sopra la montagna di solito carenza d'acqua facevano i pozzi, e il pavimento, sotto il pavimento c'era il pozzo, e nel contempo poteva essere anche un ricovero per gli animali. Bellissimo, guardiamo qui intorno, l'area circostante, questi occhi e croce saranno 10 metri quadri. Beh, quella è la strada dove provengo, comunque lo spessore, è anche lo spessore della ricensione, almeno da qui, a qui è circa un metro. Sì.